Buongiorno, oggi mercoledì 28 giugno 2017, partiamo subito col mostro brasato col pomodorino giallo. Oggi grande festa, poi vi spiego. Qua spicchio di banco, la nostra insalata di pullo sempre fresca, lo speedino, la tagliata con i peperoni, la ristaglia crumi, la tagliata con i sottolio, la costoletta di maiale, ancora qualche minuto e qualche altro piatto. Eccoci qua, lato B, partiamo dalla trippa, che ve lo dico a fare, freschissima, estiva, con un po' di limone, sale e pepe è il top. Poi passiamo al fegato, che in queste giornate ci sta benissimo, visto le sudate, un po' di ferro che ci aiuta e ci sostiene, è importante. Gli impanati e le cotolette di vitella. Ed ecco qua, un fantastico prosciutto di maiale, eccezionale, con un boccocino di vitella che passa. Queste ti li manda Maria via per il vostro anniversario. Ah, bellissimo, bei fiori, grazie a mia moglie. Potrebbe andare così, ma la verità non è questa, perché nei video possiamo fare quello che vogliamo. Trenta secondi e vi faccio vedere la verità. Ed ecco la verità. E beh, ma oggi non è il 28 giugno, non è l'anniversario tuo. Mamma mia, vittorio, va a prendere subito i fiori e chiamandere la mia vita, va a prendere. Ecco, questa è la verità. Molto spesso nei video uno mistifica, fa, Ma qua è una battaglia continua, da una mattina a una sera. L'unica cosa sincera e vera è che oggi è l'anniversario di matrimonio mio e di mia moglie. 18 anni assieme, di tutto e di più. Ti amo sempre e comunque. Più di un minuto col cuore arrabbiato, ti sposerò perché a mi viaggiare poi.